Un altro sciame sismico nella zona di Campi Flegrei. Molti residenti nell'area di Pozzuoli e nei quartieri occidentali di Napoli sono stati risvegliati. Dagli shock. Preceduti da un ruggito. Che ha fatto tremare le finestre e gli oggetti nelle case. Due eventi sentiti al mattino con la mattina con la mattina un epicentro nell'area Solfatara. 1 a 5,06 di grandezza 2.1 e 1 a 8,31 grandezza 2.4. Il primo ha una profondità di 2 chilometri. L'altra di 5. Ci sono diversi shock che negli ultimi giorni hanno costantemente superato la magnitudo 2. Il più forte domenica scorsa a 17.35 con magnitudo 2.8. Uno shock di magnitudo 3.2 è stato poi sentito questa mattina nella zona di Campi Flegrei al 9.10. L'evento. Ha una profondità di 3 chilometri. È stato avvertito nell'area occidentale di Napoli e nella città di Pozzuoli.